Fronte comune tra Frederick Vasseur e Toto Wolff contro l'entrata di un nuovo team in Formula 1. Ormai sta diventando un tormento per i team attualmente in Formula 1 sull'eventuale approdo di un undicesimo o dodicesimo team nel circus proprio della Formula 1. La questione ragazzi è puramente economica come ho già ribadito in un precedente video su questo tema. Infatti i 10 team vogliono mantenere il sistema che garantisce la ripartizione della torta dei ricavi che diminuirebbero se la tassa d'ingresso per i nuovi team restasse di 200 milioni di dollari visto che il prestigio e comunque il valore della Formula 1 si è innalzato. Passando le parole Vasseur dice che può avere senso per la Formula 1 un approdo di un nuovo team solo se si tratta di un approdo enorme in ogni singola direzione e aggiunge che per me si deve comprare una squadra già esistente. E certo poi vedremo perché dice così invece Toto Wolf si sofferma su una questione tecnica dice guardiamo le qualifiche già ora sembriamo una pista di go kart siamo tutti attaccati sottolineando che figuriamoci con 11 o 12 team quindi con 22 24 macchine. Ma io dico se l'undicesimo team si chiama Andretti Cadillac io onestamente non sarei così certo che non porterà valore aggiunto alla Ferrari. Certo non competeranno per il titolo mondiale ma neanche faranno figure barbine tecniche finanziarie. Devo farvi la lista dei team come quelli Superaguri, Virgin, Manor, Marussia, Caterham, HRT, Andretti ed anni nel mondo delle corse automobilistiche come la Cadillac. L'idea di acquistare team esistenti come Paventa Vassar è un discorso per il quale non ha alcun senso secondo me. Ragazzi acquistare un team vuol dire mantenere intatto la torta da ripartire sempre da dividere in 10. Punto. Questo è il punto.